Attentato incendiario. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, al quartiere Commenda Brindisi, nel Mirino di Gnoti, è finito un negozio di videogiochi in via Sicilia 76, Danny Video. Pochi i dubbi sull'origine dolosa. I vigili del fuoco del comando provinciale, giunti sul posto, hanno immediatamente notato che l'incendio stava interessando l'ingresso. Le fiamme sono state provocate da un liquido infiammabile che molto probabilmente è stato versato tra la saracinesca e la porta d'ingresso. Poi il calore spigionato dalle fiamme ha spaccato le vetrate e il fumo ha anedito le pareti. Fortunatamente l'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero aggredire l'interno del locale, provocando danni ulteriori.